Bella ragazzi sono BenWolfers e siamo tornati sul Rocket League direttamente nella nuova modalità dropshot E segniamo pure? E segniamo pure ragazzi, fantastico, è una partita già iniziata Io sono arrivato qui allegramente, giusto in tempo per vedere il gol Ci è piaciuto un sacco questo ingresso, ma veramente un sacco Ah, in questa nuova modalità siamo praticamente dentro Tron, avete presente il film? Ditemi di sì E se avete presente il film sapete anche che siamo in questo, mamma mia, mondo virtuale Dobbiamo fare gol, bucando letteralmente il pavimento come se fosse un guscio d'uovo Praticamente colpendo la palla si carica del colore dell'ultima squadra che l'ha colpita Ovviamente l'ha colpita con una certa forza Questo fa sì che il pavimento prendi una bella botta Vedete, se la palla è grigia prende un piccolo danno Se invece la palla è colorata del colore della squadra che l'ha toccata Tipo adesso Se adesso tocca il pavimento magari no, eh Peccato, prendiamo un bel danno A poco a poco il pavimento si rompe Quando sotto non rimane più niente Inutile dirvi che si segna ragazzi Uh, che bel tiro questo Ah, sì, è la rossa Scemo io che non me la accorgo Ecco ragazzi, che botta che gli ha dato quello Che botta Eh No Salviamola Mamma mia nella parata Mamma mia nella parata E qua ce l'hanno buttato Uh, finisci lì dentro? No, eh Peccato Poi abbiamo fatto un sacco di dannini No, 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 no Uh, meno male che ha preso il bordo Non te lo lascio fare mai nella vita Sapale blu lì non entra per fortuna E vediamo di mantenerla blu Grazie Uh Oh Ho tocchicchiata giusto in tempo Per dargli il mega danno Prendila, prendila Ma dannazione No ragazzi Questa entra Che ansia ste partite No, sì Forse Dai che Eh, niente da fare Però sono tutti quanti là Se lui riuscisse a toccarla E infatti ci riesce Eh, un po' di danno gliel'ha fatta Vai così Danneggiamolo Ci piace E questo ci piace molto di meno invece Uh, buono questo Dai che la liscia Ma manco se che Tocca, tocca Ah, che peccato Era rimasto probabilmente senza turbo ragazzi Ah, tanto il turbo si ricarica da solo Non c'è bisogno di andare a prenderlo L'ideale per chi ama il volo appunto Uh, questa entra Se la tocchiamo però Se non la tocchiamo Non entra È giusto, no? Dai che un golettino Possiamo piazzare ancora Dai che glielo piazziamo E dai che glielo piazziamo A tre secondi da termine Mamma mia ragazzi Mamma mia Tac Bellissimo Vedete, era grigia senza protezione Ed è entrata Ragazzi, 2 a 0 Io direi che non possono farcela mai Quindi io vi saluto Spero che vi sia piaciuto questo video E se così è Lasciate un like Commentate Condividete E soprattutto Iscrivetevi Per vedere video nuovi ogni giorno Ci segnalo 0 0 0 0 0 Porco demonio Va bene così ragazzi E Ciao Ciao Ciao